Uno, due, tre, quattro, scinga, riesce, vinda volta, giù forte, mese e cosce, goppa a bocca, mese a luocci, rinda e renda, uno, due, scinga, riesce, vinda volta. Ora, ora si, ora li posso guardare? Perché? Perché, Maria, finalmente sei diventata grigia, come tutti noi. Io non dico niente. Che è solo, se mi riesci più un po' di fatto. Secondo me non approccio. Non approccio, eh? Basta. Perché te è ciso? No, perché basta, beh. Ma godiamo stasì. Bene, bene. Bene, bella ora è?